Ben trovati da Tg della mobilità, mille nuove licenze, taxi a Roma e online, da ieri il bando di concorso che definisce regole, criteri e requisiti per la prenotazione della candidatura. Domande fino al 23 settembre, le informazioni e il collegamento al bando sono anche sul sito romamobilità.it. A Massimina da domani avvia la sperimentazione di Clickbus, servizio bus a chiamata, gratuito, accessibile a tutti, dietro prenotazione dalle 5.30 a mezzanotte, anche nei festivi, il servizio è cestito da ATAC, la prenotazione da domani si potrà effettuare con l'app Clickbus, tutti i dettagli su romamobilità.it.